Questo libro che si chiama Capitani con una n bella azzurra marcata ed è un libro dedicato a tutti i capitani alla storia del Napoli, quindi dal primo, un capitano all'epoca senza fascia perché così si usava nel 1926 Pippone Innocenti, a quello attuale Giovanni Di Lorenzo. È un libro che regaliamo ai nostri lettori che venerdì 25 novembre acquisteranno il mattino, venerdì 25 novembre che non è ovviamente una data casuale perché è quella del secondo anniversario della scomparsa di Maradona. È stato il capitano dei due scudetti della Coppa UEFA, della Coppa Italia, della Supercoppa italiana, è stato soprattutto il capitano del riscatto, è stato il capitano della squadra che è arrivata in cima all'Europa e quindi essere in cima all'Europa significa essere in cima al mondo calcistico. Però ci sono stati tanti altri capitani che secondo me hanno lasciato un segno, ricorderei i primi, appunto Innocenti e Sallustro, ma anche Bruno Pesaula che prima di essere stato un importante allenatore del Napoli è stato titolare della fascia. E poi ovviamente chi abbiamo sentito più vicini a noi negli anni 70 e 80 c'è Antonio Iuliano, Beppe Bruscolotti e subito dopo Ciro Ferrara che raccolse questa eredità della fascia e anche l'eredità morale da Diego Maradona. Secondo me il capitano è sempre un leader, è sempre un punto di riferimento per il gruppo. Io sono rimasto molto colpito dalle parole che usò Spalletti quando annunciò che Di Lorenzo era il capitano del Napoli. Lo fece subito, dopo la prima amichevole nel ritiro di questa estate in Trentino. Sottolineò il suo valore morale, il suo rapporto con la squadra, la sua forza e il suo essere punto di riferimento anche per la tifoseria. Questo significa che quel pezzo di stoffa ancora conta tanto.